Il giudice Valentino Pezzuti alla guida del Tribunale di Arezzo. Dopo il reintegro provvisorio del procuratore Roberto Rossi, ancora infatti in attesa del verdetto del Consiglio di Stato nel merito del suo ricorso, adesso arriva anche il voto del plenum del Consiglio Superiore della Magistratura sul nuovo presidente. Valentino Pezzuti, 63enne, originario di Napoli, proveniente da Lucca, dove ha ricoperto finora lo stesso incarico, è stato indicato all'unanimità dalla Quinta Commissione sugli incarichi direttivi del CSM. Si sblocca così la grande crisi della giustizia aretina, che aveva visto il Palazzo di Giustizia decapitato dei suoi vertici. Il ruolo di presidente del Tribunale era infatti rimasto vacante dal 1 settembre 2019, ossia da quando era andata in pensione Clelia Galantino. A reggere il Palazzo di Giustizia aretino era stato così il giudice Gianni Fruganti, già presidente della sezione penale e presidente del collegio che si sta occupando del crack Etruria. L'arrivo del nuovo presidente, insomma, darà un po' di fiato al giudice Fruganti, ma anche all'intera macchina della giustizia aretina, alle prese con un'importante carenza d'organico, un vuoto di magistrati che prima dell'emergenza Covid aveva anche acceso la protesta degli avvocati.